Si conclude qui, al Villa Sant'Andrea di Taormina Hotel Belmond, il tour Art of Coffee, formazione dedicata al personale della struttura sulla preparazione dell'espresso perfetto e delle bevande a base di caffè. Io ringrazio il direttore, l'F&B Alfio, Stefano, Pietro, il bar manager per la calorosa accoglienza, ma anche tutti i ragazzi dello staff, da Ecomia e Barman, tutti quelli che lavorano in questa bellissima struttura perché si sono messi a disposizione nel migliorare la qualità della preparazione del caffè qui in hotel. Vi lascio con il riepilogo della giornata e con due preparazioni che insieme a Pietro abbiamo pensato da mettere in lista per l'anno prossimo, un ice latte e un coffee soda veramente particolari. Guardateli e io adesso rientro a Milano. Ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti